E allora eccoci con Luca, il mister del Real Morciano, vittoria in finale contro lo Sharks di Castrocaro, insomma tantissimi complimenti, una bellissima vittoria, partita equilibrata, ci fa un commento mister? E' stata una partita tosta, ma allevando in testa il nostro obiettivo, volevamo vincere, ragazzi, è stato molto contento, e poi siamo tutti noi a casa della Coppa del Nord, ci siamo divertiti, e poi siamo tornati, 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 prossimo anno. Eh sì, allora la Coppa Italia sicuramente un obiettivo importante, un obiettivo raggiunto, come ha detto lei, miss in una partita tosta, perché alla fine sul 4-4 era tutto in bilico, poi ragazzi, come ha detto lei, ci hanno messo il cuore. Sì, sono stati bene, ma non è lato, perché hanno riporto il corpo sotto l'uomo, gli avversari, ma i nostri, sono stati tosti, fino a fine, proprio che hanno giocato in questa squadra, e i ragazzi a voi sono stati fredditi a fine, ma comprenenti anche agli avversari, perché sono una bella squadra, ma noi oggi siamo stati bene. Allora, complimenti e una buona festa, grazie mister!